bella a tutti ragazzi ben trovati in mio canale sono TuttoTutorial e oggi sono qui per mostrarvi diciamo un continuo del programma per modificare dei video non un continuo anzi un aggiornamento perchè adesso uso dei nuovi programmi intanto vi volevo dire visto che il primo video ha raggiunto i 4000 visualizzazioni ho deciso di farlo un altro per aggiornarvi sui nuovi programmi che sono usciti e quindi migliori rispetto ai vecchi come sempre abbiamo il nostro Audacity che l'avete visto nel primo tutorial e quindi è sempre lo stesso non cambia niente poi abbiamo Sony Vegas Pro 12 che sarebbe l'aggiornamento di Sony Vegas Pro 10 anche se prima di Sony Vegas 12 è uscito Sony Vegas 11 che io non ho avuto perchè il mio computer non me lo faceva scaricare e quindi ho scaricato Sony Vegas Pro 10 un anno fa adesso sono passato a Sony Vegas Pro 12 allora Sony Vegas Pro 12 si presenta come Sony Vegas 10 a eccezione che sono cambiati i video cioè nel senso i video FX le varie modifiche dei video, i vari effetti e in più è cambiata la qualità cioè se voi renderizzate un video vi da una qualità più alta e ve la fa scegliere meglio cioè come Sony Vegas Pro 10 se io mi ricordo bene perchè da un anno che non lo uso la massima della qualità era a 620p adesso la qualità di Sony Vegas Pro 12 va in full HD e va a 1080p quindi rispetto al 10 che è una versione più obsoleta del programma il Sony Vegas Pro 12 è il top come non ho detto nel primo video Sony Vegas non è un programma gratis ma avete una licenza per 30 giorni per usarlo a meno che non andate su YouTube e trovate qualche crack per giustamente crackarvi il programma clicchiamo Sony Vegas perchè come ho detto cambiano solo alcune cose rispetto al 10 poi un altro programma molto utile che a me serve è Action no scusate è Camtasia Studio 8 io già ce l'ho aperto infatti clicco qui allora Camtasia lo potete usare sia per registrarvi quella webcam per o per registrare il desktop oppure per un programma di editing allora come programma di editing non è meglio Sony Vegas però Camtasia a volte serve se vuoi in un video adesso vi faccio vedere import media facciamo ecco prendiamo questo che è un video di normale che ci da il nostro Windows lo mettiamo solo timeline qui possiamo qui come potete vedere possiamo scegliere il formato che noi vogliamo applicare e qui come 16 noni e vi dice anche YouTube e screenshot allora cliccateci fate ok adesso clicchiamo sul programma sul qua come vedete di solito in alcuni video il il video sarà così cioè sarà a metà e non ricopera e non ricopera e non ricopera tutta la parte nera del del vostro del vostro formato 16 noni allora quello che dovete fare cliccate sul video intanto qua lo potete spostare ma non vi conviene ci cliccate su queste parti diciamo sui bordi centrali e allungate il vostro video finchè non arriva non copri tutti gli spazi neri oppure qua lo potete abbassare oppure sempre allungare Camtasia rispetto a Sony Vegas come qualità non è molto buona però per chi non volesse Sony Vegas cioè che si trova è più utile perché Sony Vegas è molto più complicato da fare rispetto a Camtasia è anche buono come programma di editing poi qui possiamo avere lo zoom l'audio possiamo registrare anche il nostro audio e poi qua ci sono le varie transizioni che applichiamo all'inizio del video come Sony Vegas però io vi consiglio sempre Sony Vegas perché Camtasia non offre un editing molto particolare come se dovete fare un montaggio di Black Ops 2 oppure di altri giochi con Camtasia non lo potete fare potete fare magari quei montaggi piccolini che passano da una da un'immagine all'altro ma se volete fare programmi con effetti particolari vi consiglio sempre il Sony Vegas concludiamo il nostro Camtasia vabbè commentiamolo poi Action che adesso io sto usando e lo apro qua perché lo sto usando e si apre no ecco allora io sto registrando quindi non ve lo posso cerco di farvelo vedere meglio ecco Action è un programma utilissimo ma molto utile che a me serve per registrare lo schermo del vostro pc e non solo se voi avete un computer buono che non è il mio caso se volete fare dei 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 gameplay usate Action molti usano Frax per controllare a quanto il vostro gioco va di FPS però diciamo Frax non è molto utile nel game nel game nel gamer cioè per un computer da gamer perché controllando i FPS ruba diciamo un po' di memoria alla vostra scheda video a meno che non avete una scheda video ultra potentissima come una diciamo una 720 una GTX in video 720 una 760 alcune volte il vostro gioco può laggare invece in modo di registrare qua c'è scritto c'è l'applicazione della direction poi qui desktop e qui un punto in particolare della vostra area poi qua lo potete settare cioè tutti i comandi ad esempio qua le sezioni video premere 1 sezioni auto premere 2 a vostra scelta poi qua scegliete la modalità come lo dovete registrare qui c'è la webcam e altre cose quindi io vi consiglio di usare per il game per il gaming action e no fraps allora anche se vi ho fatto vedere poche cose come infatti nel primo video vi ho detto che io dovevo spiegare di più ma io non vado nei particolari di un programma perché qua come leggete dal titolo è programmi per modificare i video e no capiamo come usarli i programmi vi dico solo quali programmi io uso poi se volete un tutorial più meglio diciamo sui vari programmi che vi ho illustrato adesso voi scrivetemelo e io ve lo faccio va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto speriamo di arrivare anche in questo video con 4.000 visualizzazioni mi raccomando iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video tutorial bella